Ragazzoli belli, benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video. Vi volevo ricordare ragazzi che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite potete farlo tranquillamente utilizzando il codice creatore CROATOMIST. Quindi basterà andare nell'item shop, cliccare su supporto in creatore e andare a digitare il mio nome, ovvero CROATOMIST. Accettare ragazzi e il gioco sarà fatto. Vi ricordo inoltre ragazzi che ogni qualvolta scioppiate qualsiasi skin su Fortnite avete anche la possibilità di taggarmi su Instagram e io farò in modo appunto di condividere ogni singola vostra stories. Quindi ragazzi, grazie a tutti quelli che dicevano di supportarmi ma adesso godetevi questo fantastico video. Giavino, Giavino! Allora, io vado alla casetta qua a farmi un bel raspoone di quelle proprio... Oh sì, dai ti prego! Oh sì, amore mio! Vieni qua che c'è qualcosa. Non mi faccio scendere da qua. Aspetta che devo un attimo di questo qua. Vieni qua. Eh! Amore mio! Un po' sull'armadio! Di tua zia! Dai, amore, ti prego! Vapor! È impazzita, ragazzi. Brava mia nonna. Bibi! Sopra di noi. Sopra di noi? Sonia è quella che domina, quindi non è possibile questa cosa. Vuoi in tattico? Ce l'ho, ce l'ho. Bibi è qua. Sopra. Sopra. E io scendo. Come ti permetti, scusami. Io dai puto del tubale, tutta l'è là! Ma dove l'altro? Mai. Dove l'altro? Nella prossima lobby. Ah, sì? Mamma mia. Ah, ragazzi, io sto qua tanto e non mi cecchino nessuno. Cheat, ragazzi. One eternity later. Questa è la dimostrazione che è un gioco di merda. Bibi? Ehi. Trovami. Però... Ok, trovami. Vabbè, è facile trovarmi, però. No, non si vede? Ehi! Ehi! Che cos'è qua sotto? Che è qua so... Oh! Non lo sapevo! No! C'è pure la cassa! Oh, cecchino. Io ho tre medit. Ma che cazzo hanno aumentato la probabilità? Qui ne è tre. Ogni game ci sono... Minchia. Guarda io. Qui ne è tre. Che cazzo era? Eri tuo, Bibi? No. No, qua davanti a me. Fire in the hole! Fire in the hole! Ma non l'ho capito. Mi stavo divertendo, Bibi. Fammi trollare. Ah, sì? Oh, my God. Sto sbagliato. C'è un tizio? Oh, sì. Dai, ti prego. Io si chiamava cinque buchi zyper. Eh, ma solo che te l'ho messo io nel buchetto. Ti ricordi questo posto, Bibi? Sì, non me lo ricordo, cazzo. Seria? No. Era sempre a spiegare. Guarda due medit. No, ne ho tre. Ah, io le lascio i miei. Cazzo, cazzo danno... Eh? Sto cazzo danno un botto di munizioni. Che hai fatto? Che è successo, Bibi? Hai sentito qualcosa? No, no. Ok. Ogni tanto una connessione decide di... Ah, ok. ...fare dei rumori. Pensavo avessi sentito, tipo, dei rumori. Dei versini strani, tipo. No, dai, ti prego. Ok, se qua è una nave, no? Sì, sì. Una scialuppo. Non è una nave. Vieni, dai. Ok, intanto... ...di dai il turbo. E credo che in real... ...credo, giusto? Tipo, se ora sei contro male, no? Si sparano. Tranquilla. YOLO! Dai, ti prego! Oh, sì, ti prego. Non voglio buttare tutto. Ha! Dai, ti prego! Ehi, ragazzi. Sì. Ma sta partendo da safe, ho detto come io. Infatti, io direi di andare in safe, Ibina. Sì, sì. Perché il tempo che fai diamo vogliamo di safe, perché ormai purtroppo è così questo gioco. Eh, non c'è più mobility. Guarda. Sì, sono là. Dove? Qua. No, ma non ci dovrebbe essere quelli dietro, scusami, Ibbi. Sono morti di safe. Sono morti di safe. Vabbè, andiamo. Due team, andiamo. Se no ci sei avvicinando. Ovviamente, ovviamente, ovviamente. What? Build a metallo. Build come non mai. Perché a me non mi cambia il materiale? Vieni, 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 vieni. Vai, vai, vai. Mentre che vanno. Vai, vieni, vai. Ma non mi ha cambiato materiale. Gioco di merda. Ragazzi, io con i cecchini ho proprio un problema. Non ci posso fare niente. Io vi due. Esci, Lini. No. Mi serve quel drop allora, Ibbi. Vai, vai. Vai. Ma chissà che non è due di due. Porca troia, Ibbi. Ehi. L'RTG ora, è finita. È finita. Ma non si trova mai l'RTG ora. L'RTG è il... L'RTG è il... Prima c'aveva le feste. Sì, vabbè. Guardali. A domani. Sei pronta a vincere? Vai. Ti cura? Vai. 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 Guarda che sia quasi sceso. Invece. Non sono fatti cadere, eh? No, Ibbi, no. Non farci cadere, eh? Ma se buttano da solo, Ibbi. L'ho messo. E vinciamo. Dai. E' andata lì. E' andata lì, Lindale. A domani. Lui ha detto... No, ragazzi, quella lì era di quella scena. Amore, sono andata sola a casa. Sa buttare telefono per aria e si butta fuori dal balcone e muore. Porca puttana. Voleva solamente andare a fare l'amore con la ragazza. Si butta dal balcone e muore. Cheat. 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 L'ho fatta di redondi l'obbio. Comunque... Ci sono troppi lanciarazzi. Ma tu hai visto? Ma hai visto con quell'oro ogni quanto sparavo? Cioè, buttavo e caricavo. Sembrava il P90. Sì, lo so. L'ho visto. Sì, lo so.